Non so già Cari amici di Radio No Frontiere allora ben ritrovati siamo qui per ricordarvi il nostro appuntamento sportivo io sono Ciro Gaipa, il mio fianco ovviamente il direttore Raffaele Ruzzomando sotto porta show da sabato 9 giugno alle 11 live dalla libreria Mancini Grande Ciro, mi raccomando seguiteci, non mancate vi aspettiamo in Via Nuova generale 11 a Napoli dai nostri amici della libreria Mancini un appuntamento fresco irriverente se volete se tanto vi fa piacere con noi due, genuino soprattutto con noi due ma non solo tanti ospiti ci sarà l'immarcescibile guarda che parole che sono andato a trovare caro Ciro, Natale Giusti ma non solo, vi aspettiamo ogni sabato dalla libreria Mancini 9 giugno ore 11 calciomercato mondiali e molto altro ancora seguiteci, ciao